Una prestazione da urlo di Nicola Kurstovic, che prende 7 per l'azione del fantacalcio.it. Non ha fatto gol il Montenegrino, l'attaccante del Lecce, ma è stato veramente una mina vagante per tutta la partita per la difesa della Roma. Pensate, ha mandato quattro volte al tiro i compagni, ha regalato una palla goldoro a piccoli, una ad Orgun nella ripresa, incredibilmente sprecata. Ha giocato di sponda, ha procurato falli, ha aperto il gioco, è andato al tiro in maniera pericolosa. Gli è mancato il gol, ma la prestazione è stata sicuramente da migliore in campo da MVP della partita. E per questo il 7 a Nicola Kurstovic.